Oggi vi do una dritta su come pulire i pennelli. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai, carta, forbice, mateta, coloriamola un po' noi, corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale, guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te, questa è Arte per te, Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi parliamo della pulitura dei pennelli. Io a tempo fa vi faccio un lungo video sulla pulitura dei pennelli e ve lo linko qui in modo da vedere come con vari metodi si possono pulire i pennelli. Ma da oggi c'è un metodo eco molto molto interessante, l'Oil Cleaner Eco di My Mary. Allora, questo detergente, perché altro non è che è un detergente, è un detergente totalmente privo di ammoniaca. Vi leggo cosa c'è scritto, detergente sente l'ammoniaca miscibile e diluibile con acqua, non è pericoloso per l'uomo e per l'ambiente, detergia profondamente tutti gli strumenti utilizzati nell'atto pittorico. E qui non continuo più a leggere perché voglio descrivervelo io, avendolo usato, ma non voglio descrivervelo a parole, voglio descrivervelo facendo vedere come si usa. Spostiamoci di là nel mio lavello per vedere come uso l'Oil Cleaner Eco. Ed eccoci nel lavello della mia cucina con l'Oil Cleaner Eco della My Mary. Adesso vi farò vedere come funziona questo detergente che serve appunto per pulire perfettamente i vostri pennelli. È un detergente, è un detergente, un tensiattivo appunto, inodore. Come vedete ha un colore lievemente paglierino, ma nulla di che, prendiamo il pennello sporchissimo con cui ho fatto l'ultima lezione del corso di pittura. Quindi, che ha lavorato tutta la mattina, lo immergo dentro. Quindi lo esco, apro il rubinetto con dell'acqua tiepida. Io uso l'acqua tiepida, ma non è necessario. Io sono una selvaggia, vado a mani nude, ma... Com'è? Penso quasi tutti i vittori. Pulisco perfettamente verso il residuo. Allora, quel bicchierino io lo userò, questo bicchierino la mai sporco, lo userò come base per tutti i pennelli. Poi, me ne preparo anche un altro e ne butto una micro quantità. Proprio poco, 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 vedete? E dopo aver sciacquato, do la seconda mano. Così, lo sciacquo, perché questo mi servirà per tutte. E rilavo bene bene il pennello. Il pennello a questo punto lo sento ancora un po' grasso, ma già ben pulito. Per essere proprio esagerati, a questo punto ne prendo proprio una micro punta. Ripasso le setole, ve lo sesce sporco. Ancora un po' di pigmento, vedete? Il residuo c'è, ma sempre meno. Niente, pulito il pennello oramai. E allargo, pulisco qui in fondo tra le setole, dove si annida di più il colore e poi fa stare il pennello aperto. Voi usate dei guanti, ma comunque questo detergente è molto, molto delicato. Questo pennello era veramente, veramente provato. Ecco qua. Il pennello è totalmente lavato e totalmente in odore. Adesso così lo riponete, lo strizzate con le dita oppure lo passate in una pezzetta, così gli date bene la sua forma. Ok? Quindi lo riporrete in un bicchiere e riasciugare all'aria. Proseguo con il lavaggio degli altri miei pennelli. questo a punta. Sempre con lo stesso di prima, giusto per farvi vedere che uno non deve sprecare una quantità di prodotto grande chissà quanto. Per scaricare l'eccesso, quando i pennelli sono sporchi sporchi, volete usare come prima mano su tutti lo stesso. e potete tranquillamente buttare nello scarico. Ok. Adesso nel bicchierino che prima avevo usato, verso un altro po' di detergente, questo questo il cleaner questo il cleaner questo questo il cleaner ha di buono che non ha nessunissimo odore nessunissimo odore quindi è per tutti insomma vedete come il pennello oramai non rilascia più sporco in eccesso quindi alla seconda passata questi piatti un po' di più perché trattengono maggiormente colore rilasciandone di meno sulla terra ok adesso un bel massaggino quindi non fa puzza potete usarlo tranquillamente nel lavandino di casa ovviamente norme di igiene comune dopo io il lavandino lo laverò con lo sgrassatore ma questo anche se faccio i piatti lo faccio e poi microgocce per l'ultima passata ma oramai sono perfettamente puliti non esce più nulla visto quindi sciacquo il bicchierino che poi andrò a buttare o che conserverò per fare sempre questo lavorgio che non ha subito nessun trauma ok avete ben bene le secole questo anche il manico è un detergente quindi non vi preoccupate non ha solventi state sereni potete toccarlo con le mani non vi succede nulla è come lavare i piatti solo che lavare i vennelli ovviamente se siete allergici ai componenti del colore siccome andate a toccare colore ci sono quindi mettete i guanti come quando lavate i piatti se non volete rovinarvi le mani per la manitura e via discorrendo e i pennelli anche in questo caso li passiamo un attimino così velocemente in una pezzuola gli ridiamo la forma spostiamoci di là che ho ancora qualche cosina da dirvi avete visto che è semplice pulire i pennelli con questo prodotto della My Mary è veramente veramente utile non fa nessunissimo odore una schiumosità che avete visto pressoché nulla pochissima ma pulisce deterge profondamente lasciando le setole del pennello molto morbide perché poi i pennelli che vi ho fatto vedere si sono asciugate e ho potuto notare appunto che il pennello era in ottimo ottimo stato i pennelli erano in ottimo stato tutti e tre è un prodotto che come vedete ho usato con le mani e non ho avuto problemi nessun tipo di rash nessun tipo di eruzione cutanea come dice comunque la confezione stessa sono sicuri per l'uomo e per l'ambiente il lavello si è lavato in un attimo non ho avuto problemi di residui di viscosità di grasso non è un prodotto che lascia le mani ingrassate è un detergente è un tensio attivo quindi è un tensio attivo però che rispetta l'ambiente e rispetta l'uomo e rispetta soprattutto i vostri pennelli è vero come dice anche la descrizione del prodotto ingloba totalmente la materia pittorica che insiste sul pennello l'avete vista la disperde lentamente e poi il pennello risulta pulito un ottimo prodotto specie per chi soffre di allergie per chi non può toccare troppo i colori ottimo ottimo prodotto perché come avete visto potete lavare i pennelli anche mettendoli in infusione nel prodotto stesso e poi sciacquandoli velocemente sotto l'acqua ve lo consiglio e ve lo voglio fare provare e ve lo faccio provare con un super giveaway infatti la mia Mary mi ha omaggiato di più confezioni di questo prodotto che per fortuna posso mettere a vostra disposizione come sempre tutto quello che arriva ad ombretta dopo essere passato da questa casa transita verso le vostre case e allora per 4 fortunati di voi me ne trattengo una boccetta per un super giveaway natalizio quindi vi rimanderò anche a quello 4 di voi riceveranno una boccia di oil cleaner eco quindi un pulitore un detergente per pulire i pennelli veramente super lo potrete provare e lasciatemi dopo che lo provate per favore quando vi mando i prodotti lasciatemi un commento poi dopo che li avrete provati non un grazie se fantastica non mi interessa grazie a voi sempre per essere qui su arte per te ma ditemi cosa ne pensate perché anche il vostro giudizio è importante sui prodotti che io dico è importante per due ordini di fattori in primis per sbugiardarmi nel senso che anzi per testimoniare che non vi dico falsità e che io vi vi faccio conoscere prodotti che secondo me sono buoni e quindi che troverete sono al 99% proprio per non essere presuntuose sicure troverete buoni anche voi e in secondis per dare merito a chi fa dei prodotti buoni le regole per partecipare a giveaway di arte per te sono sempre quelle essere iscritti al canale youtube essere iscritti sulla pagina facebook e lasciare un solo commento qua sotto uno solo commento ragazzi giveaway si chiuderà il 30 ottobre alle 24 quindi 4 di voi fortunatissimi potranno ricevere a casa queste confezioni per provarle e vi ricordo prima di lasciarvi di votare arte per te su tutorial la trasmissione di la 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16.40 appunto sulla 3 arte per te partecipa con i suoi video e sarebbe veramente veramente fantastico se l'arte riuscisse a vincere vi lascio qui il link del video che ho fatto dove vi ho spiegato tutto dettagliatamente e sotto tutti i riferimenti del caso nel box informazioni invece tornando al nostro prodotto della Mammeri vi lascio anche il costo del prodotto e ulteriori informazioni sul prodotto stesso bene non mi rimane che saluto a curarvi in bocca al lupo per il giveaway e vi rimando al prossimo video da Ombretta è d'arte per te è tutto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti